Onorevole Donato Picca, come giudica l'attuale momento politico che si sta vivendo a Palazzo Sant'Agostino? Per la verità io sono letto e ascoltato dagli organi di stampe di informazione su questa posizione dell'Udc circa le dimissioni degli assessori, credo che il Presidente abbia sicuramente interesse ad un chiarimento e ad un approfondimento delle problematiche che possono in questo momento riguardare la coalizione, quindi anche per doveroso rispetto politico e istituzionale non entro nel merito della questione e certo evidentemente ci sono delle situazioni particolari che vanno discusse e approfondite, io riscontro peraltro a livello politico la necessità, almeno per quel che concede il mio schieramento di centro-sinistra, di intensificare di più e meglio l'azione e la presenza nell'ambito del Consiglio provinciale, ovviamente nel rispetto dei ruoli e delle posizioni, però ci sono tante questioni di interesse generale che sicuramente debbono essere discusse, approfondite e portate avanti in un rapporto anche sinergico di collaborazione, di confronto con le diverse realtà locali. Io anche nel doveroso raccordo che ci dovrà essere e ci deve essere sempre di più tra il livello provinciale e quello regionale mi adopererò e assumerò delle iniziative affinché appunto le grandi problematiche di fondo che interessano il nostro territorio possano poi trovare discussioni e approfondimenti indipendentemente dei tatticismi della politica che pure hanno un ruolo che va assolutamente rispettato.